L'11 febbraio si celebra la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, una ricorrenza voluta dall'ONU nel 2015. Questo per incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza, promuovere l'uguaglianza di genere in questo campo. Una giornata per ricordare quanto ancora oggi stereotipi e pregiudizi rendono le carriere femminili un percorso a ostacoli. La storia della scienza è piena di esempi e di riconoscimenti negativi. Di vieti e pregiudizi, ancora oggi nel mondo le donne scienziate sono solo il 30%. Lottare contro i pregiudizi sul proprio ruolo non è mai stato facile per le donne in nessun campo, però bisogna riconoscere che coloro che si sono dedicati alla scienza hanno dovuto fare i salti mortali per essere accettate, ancora prima che apprezzate. Eppure di esempi folgoranti di donne dall'intelligenza sopraffina che sono riuscite a dare un contributo al progresso dell'umanità attraverso le loro attività di scienziate ce ne sono tante. Con questa mostra l'abbiamo voluta ricordare a modo nostro. Grazie al loro lavoro e alle loro scoperte queste donne hanno dato un contributo importante alla salvaguardia del pianeta cercando di risolvere problematiche ambientali e sensibilizzando tutti al rispetto della nostra unica e bellissima terra. Grazie a tutti.